Si tratta di una privatizzazione pilotata, secondo i comuni, che hanno votato contro la modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione di Marche Multiservizi, ora formato da un consigliere in più della società Emiliana Era, che va a sostituire quello della provincia. Quindi i consiglieri nominati dagli enti pubblici scendono a 4, mentre quelli nominati dal socio privato salgono a 3. La modifica è passata con 31 voti favorevoli e 3 astenuti, Urbino, Cagli e Fratterosa. 9 invece i comuni che hanno espresso voto contrario come Montelabate, Petreano, San Costanzo, Gradara, San Giorgio di Pesaro, Montemaggiore, San Lorenzo in campo, Saltara e Cartoceto. Marche Multiservizi è una multiutilità della nostra provincia e come tale è una ricchezza per i nostri comuni, in modo particolare per i piccoli comuni, che hanno bisogno di interfacciarsi giornalmente con una società che svolge il suo ruolo sul territorio. Voi avete votato contro? Certamente, perché in questo modo si è avuto una scalata da parte di Iera, che è socio privato all'interno di Marche Multiservizi, quindi una scalata che è stata permessa in questi periodi, in quest'ultimo anno in particolare, quando Pesaro deliberatamente ha permesso questa scalata, passando sopra gli interessi degli altri 56 comuni della nostra provincia. E quali sono le conseguenze? Le conseguenze al momento sono preoccupanti, perché avere un ente privato troppo importante all'interno di una municipalizzata può avere dei risvolti preoccupanti, in quanto in previsione di una regionalizzazione delle multiutiliti andremo verso sempre più un distacco da parte di queste multiutiliti dai piccoli comuni. Quindi, fino adesso, questi piccoli comuni erano rappresentati all'interno dei CDA, dal suo rappresentante, ma anche dalla provincia, che comunque faceva dare accordo tra i piccoli comuni e i grandi comuni della nostra provincia.